Vediamo la regola numero due, che vorrei che voi sapeste, che è una sorta di grosso fraintendimento che vedo quando ci interfacciamo con gli imprenditori e i professionisti italiani, che è questa. La regola è che il marketing non vuol dire vendere. Marketing significa creare relazione. Marketing significa portare una persona a un livello successivo, creare quindi interazione con essa. Ci siete? Marketing vuol dire seguire degli step, ma soprattutto vuol dire creare relazione. E l'errore numero uno del marketing che vado a fare è pensare al marketing, faccio una campagna su eventualmente un funnel, voglio generare soldi subito, non li ottengo, nel mio settore non funziona. E' un errore micidiale, vi state togliendo una grande opportunità di business per il vostro business, per la vostra azienda, per la vostra vita, in tanti casi. Quindi cos'è che dovete fare? Dovete ragionare che nel marketing le persone vi devono da una parte trovare, ma devono anche capire e fidarsi di ciò che fate. E lo fate appunto ragionando con questi elementi qua. E' il motivo per cui la maggior parte delle persone non fa marketing, ma fa pubblicità. Fa pubblicità. Ma qui ragazzi succede che il nostro cervello ci difende, perché altrimenti saremo sempre ad ogni bancarella a comprare tutto quello che succede. Ed è il cervello limbico che ci protegge, il cervello che è la parte emozionale. Il cervello ci protegge dai messaggi, perché il nostro cervello è attirato da tre cose. Numero uno, le cose buffe, le cose che ci sorprendono. Guardate sui social, i gattini, la gente che si schianta. Sono queste le cose che magari ci fanno ridere e catturano la nostra attenzione. Oppure il cervello è attratto, il cervello limbico, dalle cose sexy. La nostra indole, nel momento in cui vedete cose sexy, si accende. Oppure, dall'altra parte, si accende per i volti noti, dalle persone. Del motivo per cui sono esplosi negli ultimi vent'anni, quindici anni social. Sono esplosi il dietro le quinte di tutti i reality show. Perché vogliamo conoscere le persone, li rendono familiari. Quindi il vero obiettivo del marketing, ragazzi, non è la vendita diretta. Dovete capirlo questo, perché se non capite questi elementi, non c'è tattica, non c'è strategia che vi salverà. Dovete veramente cambiare modo di ragionare. E se l'adottate, vi porta risultati. Perché là fuori ancora tante persone non hanno capito. Il vero obiettivo del marketing è dare valore. Kotler, il maestro del marketing, dice che il marketing è l'arte di creare valore genuino per i clienti. Valore genuino. Seth Godin, uno dei guru del livello mondiale di marketing, è l'atto generoso di aiutare le persone a risolvere un problema. Il loro. Ci siete? Anche Jay Habra. Quando fai marketing, pensi ai tuoi clienti come se fossero amici stretti e importanti per te. O uno dei nostri maestri, è stato Russell Branson, quando lavori sodo per cambiare la vita degli altri, che il marketing fa davvero il suo lavoro. Quindi marketing vuol dire relazione. Mettetevi nella testa che per fare marketing ci vuole del tempo, ci vuole delle relazioni, interazioni, proprio per creare relazione. Ma quando create relazione con il vostro pubblico? Create un valore di una grandezza enorme. Lo dice anche Google, che sostiene con Mott, che è Zero Moment of True, che ha creato, prima che ci fosse il web, c'era lo stimolo con la pubblicità, l'acquisto e l'utilizzo a casa. L'utilizzo di internet ha creato un'uova interazione, che è The New Mental Model, proprio quello dell'interazione con le persone. E pensate che secondo Google, per poter creare relazione, dovresti creare o 7 ore di contenuti o 11 interazioni. Quindi la domanda che vi faccio ragazzi, se pensavate di fare marketing in modo efficace, avete veramente creato 7 ore di contenuti per i vostri utenti o 11 interazioni? Touchpoint, quindi una ads, poi magari una pagina, poi magari un'altra ads, poi magari un blog, poi magari un video, poi magari un funnel, poi magari un webinar, poi magari una chiacchierata. Se avete creato questo ecosistema, state facendo marketing. Se non avete creato ragazzi, non state ancora facendo marketing. E è una cosa positiva, perché vuol dire che avete substrato su cui poter lavorare nella vostra attività per poter crescere. Perché sono informazioni che dovrebbero, secondo me, dirle a scuola, in tutte le scuole, per poter comunicare meglio. Allora sì che non succederebbe che l'80% delle start-up chiude, ma semplicemente per poter imparare. Avete un vantaggio competitivo che dovete sicuramente cogliere, anche perché lo spazio più importante che dovete occupare è nella testa delle persone con uno strumento infernale, che è questo. Perché le persone ci passano quasi 3 ore e 76 volte interagiamo con questo strumento. Quindi dobbiamo prendere il possesso di questo strumento qui. E come dice Daniel Priestley, uno dei consulenti che più apprezzano il mondo europeo, è che se non sei uno smart o delle persone non ti fai nuovi amici e di conseguenza non ti fai nuove vendite. Ricordatevi ragazzi, siamo nel momento digitale, in un momento, e ancora per qualche anno, perché secondo me tra qualche anno non sarà così, che ci permette di poter fare relazione con i nostri utenti con contenuti digitali. non ha problemi di spazio, non avete bisogno di magazzini, una volta creato un contenuto, un video, non si deteria col tempo, sono economici. Potete fare dei video con un vostro telefonino e un microfono da 50 euro, è tutto ciò che vi serve. Ti ho un cavalletto da altri 30 euro, 50 euro, 60 euro di investimento. Se sei un solo imprenditore ti bastano per creare contenuti. Se siete una PMI oppure una microimpresa potete investire un po' di più e rendervi un po' più professionali. Noi per esempio siamo una struttura, vogliamo differenziarci a tutti gli altri che fanno webinar. Tutti fanno webinar con lo strumentino, noi abbiamo un set, proprio perché vogliamo, come sempre, dare l'eccellenza massima per far vivere a voi l'esperienza migliore. Ve l'avevo detto all'inizio, volevo farvi vivere l'esperienza del cinema al prezzo di un ticket, magari da condividere con una persona. Quindi il mio mantra è questo, viviamo nell'epoca migliore di sempre per creare relazione a basso costo e ad alto impatto. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e lascia un tuo commento. Se invece vuoi maggiori informazioni, vai su funnelcompany.com Noi facciamo crescere il tuo business insieme.